... Una rubrica che prende proprio spunto anche dai social network e uno di questi è quello che va più in voga in questo momento il vino sta cominciando a fare effetto comunque il social network è Tweety e la rubrica è Francesco Tweety ... Un nuovo social network, eccolo qui Lo chiameremo Tweety, va bene E' andato tutto bene Eccolo qua, io provo con questo filo di voce che è rimasto a leggere un po' della nostra selezione di tweet della settimana e cominciamo dall'immancabile Paola Binetti Roma-Atalanta, la partita è terminata con la vittoria della Roma all'Olimpico per 3-1 mitica, magica Roma, farci sognare andrà tutto bene? Ma che cos'è, un malato terminale? Ma io nel dubbio mi tocco, dice Paola Binetti Allora stammi lontano Andiamo avanti con Giovanni Fontana che ci fa vedere questo dettaglio di un tifoso della Roma che aveva la maglietta di Emerson e lui racconta questa storia in un tweet Sabato all'Olimpico c'era lui, comprò la maglia di Emerson poi quello andò alla Juve e lui aggiunse sotto e si vede nel dettaglio, infamone lui ha la maglia Emerson 11, scritto sotto infamone Bellissimo, è un applauso virtuale che gli mandiamo Andiamo avanti, la Roma.net quelli che hanno portato il gelo a Roma a primavera meno 31 e riferimento ovviamente all'altra Ibernati Prima alla quinta, sesta squadra della capitale Ibernati Prima questo è bellissimo perché il messaggero Messaggero devo dire, ha un account Twitter che diciamo che dovrebbe prendere qualche lezione dai nostri Fasan e De Angelis aria mondiale a suon di gol, gli attaccanti si scatenano e poi mette un account di Prandelli che non è il suo che è un fake e mette Mario Balotelli e Dani Osvaldo che in due hanno fatti i gol in questa stagione di Mattia Destro che ne ha fatte la metà delle partite di Mattia Destro e soprattutto in quella domenica non l'hanno neanche vista la palla Complimenti Invece Anime Salve vedendo Napoli-Lazio si chiede scusate ma è il pigiama party come Ito Affini? E lo farei E riferimento ovviamente era al colore sbiadito delle maglie Ah Sandro Sabatini un collega di Sky guarda lì il segreto della Roma ha la scelta delle gomme effettivamente mostrando la testa di Nangolan ma anche in questo caso invece il riferimento lo abbiamo fatto in una nostra a una nostra trasmissione lo fa un nostro ascoltatore Davide Gerardi oggi Nangolan testimonia della vostra Super Santos sai mi viene in mente un pezzo di Gabriele Cirilli che faceva uno spettacolo su uno come portava i capelli su un aquilano non so se te lo ricordi come no come no e questo invece è Nangolan con la testa e questo è bellissimo perché di questa estate ma l'abbiamo riproposto c'è un account che fa riferimento alle statistiche di Daniel Starridge che è un giocatore del Liverpool e allora 24 years ago today the best Premier League striker Daniel Andre Starridge was born praticamente 24 anni a compie oggi il compleanno del miglior attaccante della Premier League è più bello il senso è questo se vuoi te lo traduco anche letteralmente 24 anni fa oggi è nato il miglior attaccante della storia un applauso un applauso al maestro d'inglese Patrick von Brucke per favore grazie anche da parte mia hai detto una cosa diversa era il giorno del compleanno peccato che Starridge una polemica inutile dalla storia mazza Starridge subito sotto twitta ma veramente il mio compleanno è domani è domani grazie e con un colpo di tosse Starridge e Stats non è mai più esistito esattamente sono sparite le statistiche su Starridge e poi chiudiamo con un altro account ovviamente non è il vero Zlatan Ibrahimovic ma fa abbastanza ridere a sentire che un finto Ibrahimovic dice quando mister di Udinese richiama basta tutta la sua squadra si ferma e questo è il motivo per cui l'Udinese non ha combinato molto contro la Juventus bene piaciuto sono tutti sì e allora è va bene io avrei finito grazie avresti finito io andrei da Gabriele